Le prime notizie di giovedì 18 luglio. Un 42enne Massimo Dragos è morto ieri forse a causa di un malore mentre guidava una moto d'acqua che aveva affittato in un lido di Salve in provincia di Lecce. Il corpo è stato recuperato a largo. Sempre ieri un uomo di 50 anni nato a Roma ma residente in Germania ha avuto un malore sulla spiaggia di Campo Marino di Marugio ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. In un centro benessere di Barletta alcune ragazze fornivano prestazioni sessuali con massaggi erotici ed era prevista addirittura una raccolta punti per i clienti più fedeli. Un uomo e una donna titolare e segretaria del centro massaggi sono stati arrestati dalla guardia di finanza. All'uomo sono stati sequestrati 500 mila euro e a Taranto due uomini di 49 e 62 anni e una donna di 46 sono stati arrestati dalla polizia per aver gestito giovani prostitute provenienti da tutta Italia cui affittavano stanze nei loro b&b nel borgo Umbertino. I due uomini riscuotevano il fitto circa 4.000 euro al mese. La donna, moglie di uno dei due indagati, organizzava le ragazze. Minacciavano di tagliare la testa ai figli e alle mogli delle loro vittime per costringerle a restituire il denaro con tassi di interesse fino al 2.000 per cento all'anno. Tre persone sono state arrestate e poste ai domiciliari e tre agli obblighi di dimora dalla guardia di finanza tra Altamura e Gravina in Puglia. Sono accusate di usura aggravata, estorsione e abusiva attività finanziaria. 31 in carcere, 8 ai domiciliari e 8 con divieto di dimora. 47 le persone raggiunte da misure cautelari eseguite dai carabinieri della BAT al termine di un'indagine che ha rivelato un fiorente commercio di cocaina, hashish e marijuana importati via mare dalla Spagna e venduti sul territorio pugliese. Ancora un attentato incendiario nella notte a San Pietro Vernotico. Una Fiat Grande Punto è stata data alle fiamme ed è andata distrutta. Da giorni polizie e carabinieri hanno aumentato i controlli dopo una catena di episodi di violenza. Un incendio di probabile origine dolosa è divampato ieri nel parco delle Veneri di Parabita, arrivando a lambire la grotta preistorica. Le fiamme hanno indiottito diversi ettari di macchia mediterranea e ridotto in cenere le giostrine per bambini e l'area picnic. La procura di Brindisi ha chiesto la condanna a quattro anni di carcere in abbreviato per il sociologo barese e fondatore del festival Legalitria Leonardo Palmisano, imputato per concussione quale legale rappresentante della cooperativa Radici Future nel processo su presunte tangenti al comune di Erche in provincia di Brindisi. Elio Sandicandro, rinviato a giudizio insieme ad altre dieci persone per corruzione e turbativa d'asta, torna a fare il direttore generale dell'Asset Puglia. Michele Emiliano infatti ha firmato il decreto per il reintegro di San Nicandro, che però non si occuperà più di appalti assegnati a un altro dirigente, ma di strategia e programmazione. Meteo, il caldo torrido, non molla la presa, con massime sino a 40 gradi e punte di 38 gradi persino in collina, molto caldo anche sul versante ionico e sul salento interno, valori più contenuti sul versante adriatico e salento orientale, ma con tassi di umidità elevati e clima afoso, vento di maestrale moderato, poco mosso il mare adriatico, calmo lo ionio. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.